Stai pensando di vendere casa? Allora potresti avere bisogno degli agenti MLS. Gli agenti immobiliari che utilizzano la tecnologia innovativa di MLS Agent 3. Si tratta del primo Multiple Listing Service in Italia. Una piattaforma digitale riservata agli agenti immobiliari che permette loro di offrirti la migliore consulenza per la vendita della tua casa. Grazie a questa piattaforma avrai un unico consulente di fiducia che collaborerà con tutti gli agenti connessi. Significa che avrai solo un consulente di riferimento, ma il servizio di migliaia di agenti. Così gli agenti MLS vendono la tua casa al miglior prezzo e alle migliori condizioni. Inoltre, nel caso volessi acquistare, selezionano l'immobile che più si avvicina ai tuoi desideri per poi elaborare proposte personalizzate e pertinenti. Tante persone hanno già scelto un agente MLS per acquistare casa. E sono più di 60.000 i clienti che vendono casa ogni anno tramite questo sistema. Cosa aspetti? Se devi vendere o acquistare casa, scegli gli agenti MLS. MLS Agent 3. Comunicare, collaborare, immobiliare.